Il gruppo terroristico dello Stato Islamico rivendica l'esecuzione dell'operatore umanitario britannico David Cavthorn e Aynes. Il gruppo ha pubblicato un video di due minuti e mezzo presumibilmente mostrando Aynes mentre viene decapitato. Aynes, un padre di 44 anni, è stato rapito lo scorso anno solo tre giorni dopo il suo arrivo in Siria dove si era recato per lavorare con un'agenzia di soccorso internazionale. Il video dell'esecuzione, intitolato Un messaggio agli alleati dell'America, è emerso poco dopo che la famiglia Aynes aveva diramato un appello pubblico per contattare i suoi rapitori. Nel video, il suo boia incappucciato accuse il primo ministro britannico David Cameron di essersi alleato con gli Stati Uniti contro lo Stato Islamico. Il boia ha avvertito che la decisione trascinerà il popolo britannico in un'altra guerra sanguinosa impossibile da vincere. Alla fine del video, il gruppo minaccia di decapitare un altro ostaggio britannico. Cameron ha pubblicato un messaggio su Twitter dopo che il video è stato rilasciato, definendo l'assassinio di David e nessun atto di pura malvagità. Il primo ministro ha espresso le condoglianze ai familiari di Aynes che, ha dichiarato hanno dimostrato straordinario coraggio e forza d'animo. Cameron ha detto che il suo governo farà tutto quanto in nostro potere per dare la caccia a questi assassini e garantirli alla giustizia, non importa quanto tempo occorrerà. I media britannici hanno riferito che il primo ministro si sta dirigendo verso il suo ufficio per presiedere una riunione del COPRA, Comitato di Emergenza Nazionale Britannica, e decidere su come procedere. A Washington, la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione dal presidente Barack Obama che condanna l'omicidio come barbaro. Obama ha detto che gli Stati Uniti sono spalla a spalla stasera con il nostro amico e alleato nel dolore e nella determinazione. Il presidente si è impegnato a lavorare con il Regno Unito e una vasta coalizione di nazioni della regione e in tutto il mondo per portare gli autori di questo atto oltreggioso di fronte alla giustizia, e distruggere questa minaccia delle popolazioni dei nostri paesi, della regione e del mondo. I militanti dello Stato Islamico hanno già decapitato i giornalisti americani Jim Folley e Steven Sotloff nelle ultime settimane. Il gruppo terroristico ha detto che gli americani sono stati uccisi in un rappresaglio contro chi colpisce le loro posizioni in Iraq. I militanti hanno anche decapitato oppositori libanesi e curdi. Il gruppo terroristico ha detto che gli americani sono stati uccisi in un rappresaglio contro chi